Santa Barbara, Benedetta, liberaci dal fulmine della saetta. Questo è il proverbio che racchiude la storia della Santa Martire, celebrata nella giornata odierna, dal personale dell'ufficio circondariale marittimo, dai soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e dai vigili del fuoco di Fano, oltre alla presenza delle autorità cittadine. Le celebrazioni sono iniziate con la benedizione e la deposizione della corona al Monumento dei Caduti del Mare, il ricordo della Santa vissuta a Nicomedia in Turchia, venerata sia dalla Chiesa Cattolica che da quella ortodossa. Essendo stata la sua decapitazione preceduta da torture con il fuoco, Santa Barbara è considerata la patrona dei vigili del fuoco, degli artiglieri e dei genieri, nonché dei marinai che chiamano con il suo nome il deposito delle munizioni a bordo delle navi. Cerchiamo di portare avanti quotidianamente quello che è stato il sacrificio di Santa Barbara sia nel lavoro quotidiano, quindi dando sempre il massimo impegno sia per l'utenza che per la cittadinanza nel nostro lavoro quotidiano a garantire sia tutto quello che è il nostro lavoro a livello amministrativo che soprattutto la sicurezza in mare e in generale. La giornata celebrativa è stata preceduta da altri eventi collaterali in programma in occasione della sua commemorazione. Quest'anno per la ricorrenza di Santa Barbara abbiamo deciso di dividere le celebrazioni in tre eventi. Il primo che si è svolto il primo di dicembre alla sera presso la Basilica di San Paterniano dove l'orchestra Fiati Fanum Fortune ha tenuto un concerto di musiche varie e chiudendo con delle nenie natalizie. Il secondo evento si è svolto domenica ed è stato il pranzo sociale tradizionale aperto alle famiglie e agli amici. La ricorrenza infine si è conclusa con la Santa Messa ufficiata dal Vescovo Trasarti presso la chiesa di San Giuseppe al Porto.